Ben 5.000 utenti in circa un mese, questi i numeri del metro del mare che ha registrato migliaia di presenze in poco tempo per la città di Agropoli, a partire dal 15 luglio, risultando tra i luoghi più visitati della costiera cilentana insieme ad Acciarole e Palinuro. Di questi 5.000, ben 4.000 si sono recati nell'isola di Capri, i restanti 1.000 invece ad Amalfi e Positano. In tutto invece 20.000, coloro che hanno usufruito del metro del mare, dal Cilento verso Capri e la costiera amalfitana, e da Salerno per il Cilento. Dati positivi anche per il tratto da Agropoli verso il Cilento. A dimostrarlo sono i dati di Alicos, gestore del servizio metro del mare, che effettua i collegamenti da Agropoli verso la costiera Capri, Amalfi e Positano. Anche lo scorso anno la cittadina agropolese aveva registrato numeri record per l'afflusso dei numerosi turisti giunti in quella che è considerata la perla del Cilento, con prenotazioni sopra la media. Grande soddisfazione da parte del sindaco Adamo Coppola per la forte attrattiva turistica che esercita la cittadina agropolese, grazie alla quale tanti sono coloro che possono scoprire le bellezze del territorio. Pertanto il servizio sarà prorogato fino alle prime due settimane del mese di settembre, ad annunciarlo è Luca Cascone, consigliere regionale, nonché presidente della Commissione Trasporti, Viabilità e Infrastrutture della Regione Campania. Ciò per via del ritardo con cui è stato attivato il servizio, poiché lo start era previsto per il primo di luglio, posticipato poi al 15 dello stesso mese per ragioni burocratiche. Buone notizie dunque per chi deciderà di trascorrere le vacanze a settembre.